Valdichiana, buonasera e bentornati al Giardino Valdichiana, quinta puntata qua in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, puntualissimi tutti i venerdì nonostante il caldo, ma qua dentro si sta benissimo perché ci arriva una brezza dalla Valdichiana eccezionale, quindi qua non c'è problemi di caldo. Puntata anche questa ricca, ricchissima di ospiti e di argomenti, parleremo come sempre di prodotti del territorio, di tutela del territorio, parleremo anche degli angeli custodi che vigilano su questo nostro delicato ecosistema. E poi, come tutti i venerdì, ovviamente non ci può essere che una chiusura in musica, ma non vi svelerò chi saranno i protagonisti del nostro ultimo blocco di trasmissione perché voi dovete seguirci fino alla fine per scoprire chi sono. Ma diamo il benvenuto ai nostri primi ospiti che sicuramente già riconoscete perché sono dei volti noti e famosi nella Valdichiana. Loro sono il presidente merito della Fisar, Nicola Masiello, ed Emma Lami, coordinatrice della Fisar in Rosa. Quindi parliamo di Fisar, la Fisar presente nel nostro territorio da 43 anni, che ha lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio attraverso i prodotti. Fisar, Federazione Italiana, sommelier, albergatori e ristoratori. Ecco perché il nostro Nicola Masiello ha la divisa dei cuochi. Allora Nicola, il ruolo della Fisar e spiegaci anche perché Emma ha un tipo di divisa, perché è la divisa della Fisar e tu invece hai la divisa dei cuochi. Sì, buonasera innanzitutto. È semplice. Federazione Italiana, sommelier, albergatori e ristoratori, come hai detto te, quindi implica come federazione, diciamo così, la appartenenza di due categorie molto importanti, che sono i valori traennante e portanti di quella che è l'economia riferita al turismo alla ricezione alberghiera. La mia divisa è una divisa diversa da quella di Emma, perché in questo momento stiamo parlando appunto di ristoratori, io come professione ho questa di ristoratore e d'altra parte sono anche un fondatore dell'associazione cuochi senesi nel lontano, nel 1980 e quindi ho indossato la divisa della FIC, ma diciamo che è un momento per comunicare anche ciò che insieme al vino deve essere portato in tavola, il cibo. Quindi questo è il nostro impegno come federazione italiana cuochi e come associazione cuochi senesi. Riferita poi al fatto di ciò che facciamo, ciò che facciamo cuciniamo. Quindi per avere l'abbinamento completo, il connubio, il mariage, se vogliamo dire la francese, ci vuole il cibo e il vino che siano in equilibrio l'uno con l'altro per dare piacevolezza. Parlando io di cucina in questo momento, dico che la tendenza di noi ristoratori del territorio è quella di valorizzare la filiera corta al chilometro zero. È una volontà di tanti di noi che si impegnano in questo progetto e quindi è un plauso a ciò che produce questo territorio, è un proporre ai nostri turisti ciò che il territorio offre in abbinamento naturalmente al vino nobile e montepulciano perché siamo nella patria del vino nobile. Possiamo dire in casa del vino nobile. Emma, allora tu sei coordinatrice della Fisa Rirrosa. Fisa Rirrosa che rappresenta un po' il mondo femminile. Le donne nel settore del vino, la figura della donna nel settore del vino è in continuo aumento. Qua a Montepulciano quasi il 40%, più del 40% delle impiegate del vino sono donne. E nonché un aneddoto storico che la prima vicepresidente del consorzio del vino nobile è stata una donna, Elena Contucci. Questa crescita della figura della donna nel mondo del vino, ce lo vuoi raccontare perché sempre più donne scelgono di lavorare in questo settore? E parlaci anche della Fisa Rirrosa perché so e ho anche seguito alcuni eventi proprio dedicati alla donna. Allora, buonasera. Vorrei premettere prima di tutto, visto che si parla di donne nel mondo del vino, che il nostro presidente della Fisa Rirrosa è la prima presidente sommelier Cescone Graziella. Quindi, diciamo così, è un privilegio Fisar quella di avere la donna, un altro personaggio femminile nel mondo del vino come primo rappresentante. Per quanto riguarda l'inserimento della donna nel mondo del vino, dobbiamo prendere in considerazione, è vero che il mondo imprenditoriale femminile si è ampliato un po' in tutti quanti i settori, come pure in quelli del vino. La donna si dice che abbia una sua psicologia, un suo intuito, un proprio modo di presentarsi, di avvicinarsi all'altro. Quindi la donna si è fatto spazio nel campo, specialmente dal punto di vista commerciale, nel marketing. Noi abbiamo sempre più delle men blogger, anche nel men blogger è aumentata questa figura femminile nel mondo del vino. Abbiamo delle women master. Perché? Perché il vino è un, diciamo così, è un elemento, specialmente se noi vogliamo parlare o prendiamo in considerazione il luogo tra l'altro in cui ci troviamo è uno degli elementi territoriali che maggiormente affascinano i turisti e che è un elemento territoriale proprio autottono, al quale ci si avvicina con piacere. Davanti a un buon bicchier di vino credo che nessuno si tiri indietro. Per quanto riguarda questa figura femminile, la Fisari Rosa, ecco, mi sono la, diciamo così, quale può essere la Fisari Rosa o perché Fisari Rosa? Fisari Rosa è nata solamente dopo anni della Fisar. È un progetto che è stato, diciamo così, proposto dalla Luisella Rubì, responsabile nazionale della Fisari Rosa, in cui c'è questo voler raggruppare l'elemento femminile o meglio puntualizzare o puntare su quello che è proprio il lavoro e la figura femminile nel campo del vino e in tutti quanti i settori. Allora Nicola, tu hai già un po' anticipato un po' la domanda che ti vorrei fare, ovvero gli abbinamenti. Con che si può bere, quali sono i piatti con cui si può abbinare il vino nobile, anche tenendo conto di questa stagione calda, perché magari la stagione calda può un po' portare a fare altre scelte piuttosto che un buon rosso. Allora, quali sono gli abbinamenti da fare con il vino nobile? Allora, sì, giustamente il periodo estivo non è che facilita, diciamo, il consumo di vini rossi in generale, a prescindere da vino nobile di Montepulciano o altri. È chiaro che una prima considerazione va fatta. Quando noi a livello di FISAR formiamo i nostri sommelier, le diamo delle specifiche sulle temperature di servizio dei vini. E quando si dice temperatura ambiente, è chiaro, è chiaro e quindi in questo momento proprio va sottolineato che la temperatura ambiente esterna, adesso abbiamo i nostri bei 43 gradi, ma se dovessi servire un vino nobile di Montepulciano a 43 gradi di temperatura, farei un bel vin brulè. Allora, la temperatura ideale è quella ambiente. L'ambiente per noi sono 18 gradi, quindi un vino nobile servito a 18 gradi sicuramente sarà, diciamo così, accettato bene sotto anche l'aspetto gustativo di colui che si avvicina al vino, proprio per il fatto che è una temperatura, diciamo così, relativamente fresca. Il rosso di Montepulciano, che è il fratello più piccolo del nobile, possiamo spingerci anche su 16 gradi, proprio per il fatto che è molto più beverino, ha questa freschezza acida, il grado alcolico più contenuto, quindi un insieme di cose che ci possono far servire questa vino a temperatura leggermente più bassa. Ma torniamo a ciò che poi è l'abbinamento, no? Era la nostra domanda iniziale. Quindi abbinare a vino nobile sicuramente colui che si avvicina va su piatti abbastanza forti, abbastanza strong. Che comunque, io dico sempre per esperienza, in questi momenti è difficile cucinare un peposo, ma quando ce lo portano a tavola, già cucinato, sicuramente è ben accetto. Questo per uno spezzato in una poliziana, per qualsiasi taglio di carne che vogliamo mettere in tavola, perché il vino nobile si sposa con la carne, anche con la cacciagione, direi in certi periodi, soprattutto con la cacciagione, ma in questo periodo tagli di carne, che possono essere di varia cottura, dalla griglia a cotture più lunghe, abrasate, trovano il giusto abbinamento in quello che è un vino nobile di Montepulciano. Quindi non mi crederei poi tanto il problema di cosa abbinare. Andrei su carne e andrei con un vino che abbia una temperatura di servizio ideale, che è quella dei 18 gradi. Lo ribadisco proprio per puntualizzare che la temperatura è uno dei fattori che gratifica un vino oppure, fra virgolette, lo può distruggere. Allora, a proposito di temperatura, io vi ho preparato tre bicchieri di vino nobile che andremo a degustare e poi ognuno di voi mi dovrà dire tre caratteristiche per descriverlo. Non sono sommelier, quindi mi vorrete scusare, ma io vi seguo. Emma, iniziamo da te. Allora, poiché quando si prende un bicchiere di vino e vogliamo degustarlo e quindi andiamo ad un'analisi, almeno prima di tutto a un'analisi visiva, quindi come diciamo così, il rosso di Montepulciano, nobile di Montepulciano, non può essere che il rosso, ma è un colore trasparente, è schietto, quindi già qui preclude o potrebbe essere, diciamo così, un buon inizio per la valutazione del vino. Poi, accostandolo al naso, dal momento che dobbiamo analizzarlo anche dal punto di vista olfattivo, sentiamo e avvertiamo eleganza nel vino. È schietto, è un vino schietto, quindi elegante, rotondo, perché quando poi noi lo mettiamo in bocca, avvertiamo questa, diciamo così, questa avvolgenza che il vino ha sul palato, quindi rotondo e piacevole, perché alla fine lascia una piacevolezza e un buon gusto in bocca. Si beve bene. Elegante, questa caratteristica ritorna molto, anche nei nostri produttori ci hanno sottolineato molto il fatto che il vino nobile è un vino elegante. Nicola, invece, le tue caratteristiche del vino nobile quali sono? Allora, sicuramente io considero il vino nobile un vino austero, austero anche per la nascita, quindi nobile di nome e di origine, austero perché già il nostro Redi ne parlava in un certo modo, no? Quindi, austero, storico, proprio per il fatto che ha una sua storicità, una sua permanenza sui mercati, non solo italiani ma internazionali, quindi il fatto di essere sempre presente con variabili dovute all'andamento, dei mercati, eccetera, però è un elemento fisso. È tanto che si parla di vino nobile, a differenza di altre dominazioni, anche a noi, diciamo, si confinanti che non possono, diciamo, si sfruttare questa storicità. E poi mi piace dire che è un vino attuale, attuale perché i giovani si avvicinano a questa tipologia di vino che è un vino sì importante, sì austero, come ho detto prima, però non ha la pesantezza di altri grandi vini che ci possono essere, diciamo così, di contorno alla denominazione. Questo senza nulla togliere agli altri, che comunque sono sempre a base sangevese, ma i disciplinari, diciamo così, lo portano ad avere lavorazioni in cantina diverse, per cui si ha una diversa cosa, sempre da vitigno e sangevese. È attuale perché comunque dobbiamo riconoscere che a Montepulciano sono molto le aziende che si stanno spostando verso il bio e quindi anche questo è un segno di presenza, di attenzione a ciò che il mercato vuole, attenzione a ciò che, diciamo così, gli usi anche a livello europeo si muovono in questo senso del biologico e quindi attenzione e attualità vuol dire anche questo, secondo me. Attenzione e attualità che sono anche le caratteristiche di un sommelier. Chi vuole diventare sommelier come fa? Come può avvicinarsi alla FISAR? Allora, chi vuole diventare sommelier deve fare un corso. non è che si diventa sommelier solamente bevendo o degustando per un certo periodo di tempo il vino e quindi cercando da solo oppure con la guida di qualcuno di venire a conoscenza di quelle che possono essere le caratteristiche di un vino. Si deve fare un corso fatto, la FISAR fa dei corsi annualmente che consta di tre livelli dove nel primo livello si parte proprio da quella che può essere la pianta piccola in terra che dà fino a dare l'uva poi arriviamo nel secondo livello con quello che è l'enografia nazionale e internazionale Terzo livello, quello diciamo così che maggiormente è simpatico se vogliamo chiamarlo oppure che incuriosisce è quello dell'abbinamento cibo-vino appunto di cui ci parlava prima Nicola quindi il corso è breve dura nell'arco di un anno e mezzo però volendo viene fatto solamente una volta alla settimana quindi chi vuole avvicinarsi al vino può farlo anche per conoscere effettivamente quello che è un elemento del territorio importante Il nostro biglietto da visita Allora io ringrazio Nicola ed Emma per essere venuti qua a trovarci nell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile ovviamente noi la Valdichiana vi seguiamo molto assiduamente le vostre attività siamo venuti a molti eventi quindi io vi ringrazio ancora una volta voi non andate via piccola break ci riposiamo un attimo e torniamo subito rimanete lì eccoci ancora qua in diretta da l'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile con la FISA prima abbiamo parlato del rapporto della donna con il mondo del vino e qua sono venuti a trovarci due donne del Consorzio del Vino Nobile Silvia Loriga Event Manager del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e Diana Masucci responsabile dell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile quella che tutti i venerdì ci assiste nella preparazione dei bicchieri e delle bottiglie insomma anzi e ti diciamo grazie a te ma anche al Consorzio che ci permette di fare questa trasmissione e questa edizione di Giardino Valdichiana allora il ruolo della donna nel vino è sempre in continua crescita ma è in continua crescita anche le persone i fruitori che amano il vino nobile allora Silvia quali sono i maggiori paesi dove viene esportato il vino nobile e come il vino nobile il Consorzio del Vino Nobile opera su questi paesi? Il nostro mercato principale beh tutto c'è da dire che circa il 78% del nostro prodotto imbottigliato va all'estero quindi il dato è indubbiamente molto importante il nostro mercato principale è la Germania dove esportiamo circa il 40% di vino nobile di Montepulciano considerando che la Germania è stato il nostro primo mercato estero noi tutti gli anni in Germania siamo presenti con fiere e degustazioni quindi è un mercato dove continuiamo ad investire ma il nostro obiettivo principale sono Canada e Stati Uniti su questi paesi ormai da anni investiamo molto siamo sempre presenti perché crediamo che sia il posto adatto per il vino nobile di Montepulciano Allora abbiamo detto gli amanti i principali amanti del vino sono gli americani e i tedeschi Diana tu che tutti i giorni sei a contatto con i milioni di turisti che vengono a visitare Montepulciano tutti i giorni questi due questi due tipi di turisti entrano qua all'Enoliteca quali sono gli altri turisti cosa chiedono i turisti principalmente quando entrano qua all'Enoliteca sicuramente il turista americano canadese è ben presente sul territorio attualmente sono ben presenti anche turisti che provengono dal nord Europa si tratta in questo periodo soprattutto di un mercato di un turismo molto familiare le scuole sono chiuse ci sono anche tanti bambini mentre invece per esempio in altri periodi dell'anno vediamo soprattutto coppie gruppi cambia proprio la tipologia di turista però le provenienze sono le più disparate ci sono sì americani canadesi nord europei est Europa un'altra provenienza sempre più numerosa ci sono cinesi giapponesi sudafricani nuova zelanda australia sudamericani brasile argentina uruguay cioè veramente una grande miscellania di provenienze dall'estero chiaramente adesso anche tanti italiani soprattutto nel weekend nel mese di agosto perché circolano di più e cosa chiedono chiedono chiaramente questo luogo impressiona subito con il suo sito archeologico quindi chiedono subito informazioni su cosa è a quando risale chiaramente chiedono del vino del vino nobile e la nostra tipologia di degustazione ci permette di spiegare anche le varie differenze tra rosso di Montepulciano vino nobile vino nobile riserva e cru quindi poi chiaramente si crea un rapporto anche un po' talmente diretto e confidenziale che ci chiedono poi cosa possono fare a Montepulciano dove andare a mangiare quali eventi ci sono e quindi insomma si parla un po' di tutto quindi l'enolteca è un po' il biglietto da visita di Montepulciano Silvia abbiamo visto che tanto pubblico nuovo si sta affacciando a questo a questo prodotto qual è la considerazione degli opinion leader nei confronti del vino nobile sia italiani che esteri il vino nobile di Montepulciano è una delle denominazioni storiche in Toscana considerate che siamo stati primi ad avere la DOCG quindi la denominazione di origine controllata e garantita nei 1980 questa nostra storicità non può che essere ben nota agli opinion leader ai giornalisti che tutti gli anni vengono a Montepulciano in gran numero noi abbiamo a febbraio l'anteprima del vino nobile di Montepulciano dove i nostri produttori presentano le nuove annate dei loro prodotti e qui in fortezza ospitiamo circa 5.000 persone di cui più di 500 sono giornalisti che vengono apposta in Toscana per scoprire la nostra denominazione e questo insieme ad altri eventi come a Tavola col nobile che sarà l'apertura diciamo del bravio è un concorso enogastronomico che vede la presenza di circa 20 giornalisti indubbiamente ci fa capire che il vino nobile di Montepulciano è apprezzato è conosciuto è un vino di alta qualità è un vino di una di una grande storia e è un vino che accompagna le nostre tavole allora andiamo sul tecnico come funziona l'enoliteca e che cosa offre per approfondire la conoscenza di questo straordinario prodotto allora all'interno dell'enoliteca ci sono delle macchine rogatrici di vino che funzionano con una sorta di carta prepagata che ha un importo che va calando ogni volta che il visitatore spilla vino ci sono la possibilità di scegliere due quantità di vino quella da degustazione e quella a bicchiere chiaramente ogni vino ha un prezzo diverso ogni tipologia di vino ha un prezzo diverso il visitatore può pagare poi tutto alla fine e può accompagnare la degustazione con taglieri di salumi e formaggi c'è anche uno spazio caffetteria per cui anche un post diciamo un post sosta e poi attualmente organizziamo abbiamo fatto l'edizione giugno e luglio ma riprenderemo anche a settembre un evento ormai storico a Montepulciano che è il mercoledì del nobile in cui invitiamo due produttori a presentare i loro vini i loro prodotti ed è chiaramente sempre accompagnati con qualche prodotto tipico del territorio e quindi è un buon momento come dire più divulgativo che non tecnico però la presenza del produttore fa tanto per approfondire poi la conoscenza del nobile e quello è un bel momento inoltre l'enoteca del consorzio del vino nobile sta attivando un progetto con un altro consorzio che è quello della Vernaccia di San Gimignano per entrare in un circuito di enoteche e consortili per promuovere ecco queste denominazioni della provincia di Siena anche per un pubblico un po' più tecnico e più specializzato allora tanti progetti che il consorzio del vino nobile ha in cantiere ovviamente come in tutte le cose è possibile migliorare o comunque andare a prendere andare a captare altri pubblici quali sono i progetti futuri del consorzio del vino nobile? Indubbiamente si può sempre fare meglio e il nostro obiettivo è proprio quello quello di crescere e di migliorare i progetti del consorzio del vino nobile sono tanti sono veramente tanti lo dimostrano questa nuova sede e questa bellissima inoliteca che ci ospita tutti venerdì i progetti che il consorzio sta portando avanti sono anche dei progetti di presenza massicce e costante su paesi esteri su paesi esteri come dicevo prima come gli Stati Uniti dove l'investimento che noi facciamo è assolutamente alto è grande ma noi ci crediamo e ci vogliamo assolutamente essere lo stesso per il mercato nazionale insomma il vino nobile di Montepulciano è parte della Toscana e qui bisogna bisogna fondare tutte le nostre conoscenze ad esempio noi siamo anche particolarmente attivi in quella che è l'estate poliziana quindi siamo anche sponsor aiutiamo con quello che possiamo le manifestazioni locali quindi Bruscelo il Cantiano Internazionale d'Arte e anche il Bravio che è una manifestazione famosa in tutto il mondo assolutamente Diana tu all'inizio nel discorso generale hai anche parlato un po' di archeologia il Consorzio del Vino Nobile è sempre sensibile ai progetti culturali piuttosto che di recupero dei monumenti tu sei un po' l'incarnazione di questa figura perché tu sei laureata in archeologia lavori nel mondo del vino l'Enoteca un po' ti riassume perché voi non lo potete vedere ma sotto di noi c'è un bellissimo ci sono delle bellissime scavie dei ritrovamenti risalenti all'età degli etruschi e tu vendi vino che cosa si prova ad incarnare l'Enoliteca allora no è una una cosa veramente particolare perché poi io in questi locali ho fatto le scuole si dice da noi quindi in realtà i tempi in cui questa fortezza era il liceo erano locali dove noi non si poteva accedere tornare in questa sede con quello che ha rappresentato un po' il mio passato e il mio futuro è quello che poi io cerco di trasmettere ai visitatori cioè chiaramente tutti mi chiedono di cosa si tratta io cerco di spiegare ecco la presenza di queste cisterne di questi pozzi che sono di vari periodi storici più recenti diciamo ci sono delle canalette anche della metà del novecento ci sono delle cisterne medievali romane per poi arrivare a quelle etrusche con resti che arrivano fino al secondo e terzo secolo avanti Cristo in realtà noi sappiamo che al di sotto di quello che oggi possiamo vedere ci sono altri sette metri e mezzo di materiale archeologico che non è stato possibile scavare perché siamo intorno alle fondamenta della fortezza con muri portanti che chiaramente potrebbero essere messi a rischio per cui a un certo punto è stato deciso di chiudere tutto con questo pavimento in cristallo che permette di vedere gli scavi e di mantenere in sicurezza la struttura e quindi sì io spiego quello che c'è sotto di noi ma anche poi quello che c'è sopra quindi il nostro passato il nostro futuro per me è una grandissima soddisfazione perché rappresenta un po' anche quello che sono io in un certo senso sì allora ragazzi facciamo un brindisi e invitiamo tutti a venire all'Enoliteca assolutamente sì assolutamente sì eccoci di nuovo qua con altri ospiti e altre storie da raccontare allora io devo fare un piccolo appunto a me stessa perché prima vi ho detto che voi il pavimento dell'Enoliteca non la potevate vedere ma invece grazie ai nostri bravissimi ragazzi e collaboratori dei Lightning è stato possibile vedere il pavimento quindi io mi faccio mea colpa e ringrazio ancora questi ragazzi che ci stanno veramente dando un servizio fantastico per questa nostra nuova edizione vi ho detto in entrata che si sarebbe parlato di Angeli Custodi del territorio questo territorio che ha un ecosistema molto delicato e in particolar modo è un ambiente delicato il lago di Montepulciano e sono venuti qua a trovarci Enzo e Monica due dipendenti dell'associazione Amici del Lago di Montepulciano e il nostro angelo custode che è Flavio Boschi della Basal a Sastler è un po' uno sceglilingua ma ce l'ho fatta allora Monica il lago di Montepulciano è una delle 14 riserve del sistema delle riserve naturali della provincia ho detto che questo sistema è molto delicato perché è così delicato e quali sono gli animali che lo vivono intanto buonasera a tutti il nostro lago dal 1996 è una delle 14 riserve naturali della provincia di Siena e proprio per questo si è atteso negli anni a proteggere tutto l'ecosistema che lo circonda tra l'altro è una delle zone umide più importanti del centro Italia infatti è una zona di passo importante per tante specie migratori di uccelli soprattutto specie rare come il tarabuso e il tarabusino infatti per esempio questa specie per ne edificare ha bisogno di circa 10 ettari di canneto ad uso esclusivo soltanto per loro e poi abbiamo anche in tutte le stagioni soprattutto nel periodo invernale tanto passaggio degli anatidi e quindi sono questi poi i periodi in cui è bello fare il beard watching e quindi c'è più possibilità di avvistamento il nostro lago tra l'altro in questo momento come tutti i laghi soffre un po' la siccità però questo ha permesso comunque l'arrivo anche di specie che solitamente non vivono il nostro lago per esempio abbiamo la presenza della spatola che dalla primavera ha nidificato proprio nel nostro lago infatti solitamente essendo dei trampolieri poi hanno bisogno di acqua un pochino basse quindi abbassandosi il livello abbiamo creato un ecosistema adatto proprio per questa specie di uccelli in particolar modo comunque in questo periodo è possibile anche avvistare l'aerone rosso con i suoi piccoli anche le garzette tutti gli altri uccelli tutte le varie specie di aereone abbiamo la niticora abbiamo la sgarza ciuffetta di tutto e di più e poi la vostra curiosità di venire a scoprire se vi diciamo tutto noi insomma non venite più a trovarci scopriamo un po' quello che c'è da vedere ma non troppo Flavio Monica parlava soprattutto delle spese di uccelli che possiamo trovare nel lago ma il lago ha un ecosistema delicato anche dal punto di vista ittico tu con la tua associazione siete appunto vigilate sul lago di Montepulciano e siete riusciti nell'ultimo periodo anche a mettere in fuga a denunciare degli atti illegali ovvero questa nuova pratica che è il bracconaggio ittico e praticamente anche se negli anni non avevamo mai assistito a degli eventi di bracconaggio fortunatamente negli anni appunto sfortunatamente però si è verificato degli eventi di bracconaggio proprio anche nelle nostre zone quindi al lago di Montepulciano si sono verificati in particolar modo nel periodo di gennaio appunto 2017 sfortunatamente ma fortunatamente siamo riusciti tra virgolette a cogliere sul fatto tramite appunto le guardie giurate ittiche che sono un tra virgolette un corpo che nasce direttamente dalla associazione Bassastler che è la nostra associazione di volontariato che nasce con lo scopo principale quello di riunire i ragazzi in ambito di pesca sportiva e praticamente grazie alle guardie ittiche appunto che fanno parte direttamente da Bassastler siamo riusciti a verificare questo questo fattore e a tra virgolette coglierli sul fatto è andata tra virgolette bene perché hanno piazzato le reti in un periodo comunque vada dove i pesci hanno un'attività molto ridotta infatti era gennaio era il 31 gennaio e all'incirca ora non posso dare i dettagli di quello che è stato l'intervento per logici motivi di privacy però è stato intorno ai 10.30 si sono trovati direttamente i colpevoli tra virgolette che purtroppo sembra dalle regioni del nord Italia in particolar modo tutti conoscevano Bracconaggio nel fiume Po sfortunatamente sono arrivate anche nelle nostre zone è stata una fortuna che ci siamo imbattuti noi in questa attività perché fondamentalmente nasciamo come tutela massima di quella che è l'espressione della pesca sportiva all'interno del lago di Montepulciano Enzo una riserva da vivere oltre a tutte queste cose da vedere una riserva viva e che cosa può vedere un turista che viene a visitare il lago di Montepulciano? Allora cosa si può fare all'interno noi siamo un po' l'anima diciamo della riserva forse un po' presuntoso dire questo però siamo quelli che diamo appunto le attività e la possibilità di viverla appunto frequentando il centro visite si possono fare delle escursioni sia in battello il famoso battello a pannelli solari che viaggia nel weekend su prenotazione oppure si possono leggiare delle biciclette mi sento di dire una cosa personale relativamente a questo che diciamo molti locali ancora non sono a conoscenza che esiste un posto come il centro visite e quindi all'interno della riserva detto ciò facciamo un po' di promozione perché è giusto farla noi facciamo anche un po' ecosistema sotto un altro punto di vista e cioè le grandi collaborazioni che facciamo con le associazioni che circuitano intorno a noi per citarne alcune dei prossimi eventi avremo Genze Valia avremo la Cicaccia aiutami Monica naturalmente andiamo in apertura adesso con il Ferragosto in cui si svilupperanno gli eventi come diceva Enzo in collaborazione con la Cicaccia promuoviamo una passeggiata lungo il sentiero Beardwatching quindi una nuova opportunità lungo i capanni di avvistamento che sono stati creati gli scorsi mesi proprio per dare un senso diciamo di conoscenza maggiore a chi partecipa quindi non solo l'aspetto diciamo gastronomico ma valutando anche quello che è l'aspetto del territorio e poi abbiamo come tutti gli anni la tradizionale passeggiata sotto le stelle che in collaborazione con l'associazione con la società astronomica poliziana c'è un'apertura di un forum a partire dalle ore 18 in cui ci sarà la presentazione di un progetto sul callone e poi a seguire una pericena con prodotti bio del territorio naturalmente perché non può mancare un momento di convivialità e poi questa bella passeggiata che solitamente facciamo quindi lungo il sentiero della Bonifica e per diciamo scoprire le stelle poi da quest'anno diciamo abbiamo un po' una new entry che vogliamo proprio per far scoprire diciamo il nostro lago all'interno del lago tutti i venerdì a partire dall'ultimo venerdì di agosto e si proseguirà anche per settembre e abbiamo così pensato di dare l'opportunità di fare un'uscita con il battello che tra l'altro è sempre una visita guidata oltre diciamo a quello che può essere il beard watching quindi una storia una spiegazione del territorio di quello che è stata la Bonifica e la storia del lago e poi contestualmente fare un aperitivo al tramonto quindi per godersi poi alla fine tutto il panorama che si apre su Montepulciano e a settembre poi abbiamo per esempio il 10 settembre un altro evento in collaborazione con Slow Food che è la Pedalonga quindi c'è la partenza da due punti del sentiero strategici uno è Foiano e l'altro è Chiusi dove proprio nasce il sentiero della Bonifica e poi c'è l'incontro al nostro centro visita per il pranzo sempre con Slow Food con prodotti bio a chilometro zero e il 16 di settembre ci sarà una passeggiata ecologica in collaborazione con l'associazione Adivase e poi quindi una giornata dedicata un po' a quello che è un appuntamento salutare e il 24 di settembre cioè questa mosca proprio mi uccide il 24 settembre invece in collaborazione anche con l'evento mondiale di Puliamo il mondo che si svolge sempre tutti gli anni in collaborazione collega ambiente noi abbiamo creato un po' un evento particolare si chiama Puliamo il lago e poi a quello a seguire quindi tutti i volontari si ritroveranno al mattino uniti di zainetto sacchetti kit relativo per oltretutto fare una passeggiata lungo le rive del lago e poi quindi raccogliere quindi unire un po' l'utile al dilettevole che non guasta mai e di conseguenza poi abbiamo Picnic dal mondo che è un'altra delle nostre manifestazioni che sinceramente siamo arrivati alla quinta edizione sempre con grande successo proprio per creare quel trade union soprattutto in questo momento particolare di differenze per cercare di raggruppare tante realtà sociali che ci circondano e poi a ottobre naturalmente sul finire per tutte le domeniche avremo degli eventi sia dedicati ai bambini con dei laboratori e attività per grandi soprattutto anche convegni a tematica ambientale sulle biodiversità del lago e su quello che sono i problemi proprio del lago e quindi tantissime e tantissime attività che vengono fatte al lago di Montepulciano tra queste c'è anche una organizzata dai bus hustler che è anche un modo per avvicinare le giovani generazioni alla tutela dell'ambiente che è questa pratica questa catch and release ovvero pesca e rilascia giusto? Dappi e rilascia praticamente è un modo tra virgolette nuovo di pescare è il modo più ecosostenibile da questo punto di vista perché l'approccio massimo verso la natura verso una pesca sostenibile e sportiva in quanto prevede appunto la pesca diretta e di rilasciare il prima possibile la praia in acqua per poter arrecare il minor possibile il minor numero di danni possibile senti per chi volesse al di là che per te stanno arrivando tantissimi commenti noi non li possiamo vedere perché mi hanno preso i cellulari ma dalla regia ci dicono che stanno arrivando tanti commenti per te per chi volesse entrare nel corpo o nell'associazione dei bassastre quali requisiti deve avere e se c'è un percorso da fare? Allora per l'associazione è aperta a tutti anzi chiediamo manforto il più possibile perché fondamentalmente è un'associazione che si autofinanzia quindi tutte quelle che sono le attività svolta entrare nel lago nonché anche proprio il servizio di guardia ittica viene autosovvenzionata quindi è importante che la gente riesca il più possibile a darci una mano perché è anche è un bene per tutti perché infatti se riusciamo anche a mantenere tra virgolette il lago in una determinata situazione di sicurezza anche del pescatore oltre che dell'ambiente è grazie anche alle persone che ci fanno magari delle segnalazioni direttamente alle guardie giurate ittiche e per entrare a far parte dell'associazione c'è la pagina facebook Bassastler Italia dove mandate un messaggio tranquillamente ritenete l'accesso si paga una tessera che va da 5 a 10 euro poi questa discrezione di chi entra il requisito fondamentale è quello di essere un pescatore che pesca secondo le regole di quelle che il caccio e il reliso ovvero appunto il cattura e il rilascio senti ma tu come hai deciso di fare l'angelo custode del territorio l'associazione nasce legalmente nel 2015 dove ci siamo riuniti e praticamente ci siamo messi a norma dal punto di vista della fondazione di una associazione sportiva dilettantistica grazie infatti anche agli amici del lago nasce per volere alcuni ragazzi alcuni amici che si trovavano quotidianamente tempo permettendo proprio a pesca che cercano che hanno cercato tra virgolette hanno detto perché noi non possiamo fare qualcosa per il nostro territorio per poter riuscire a tutelare il più possibile la nostra scusate la mosca ce l'ha con me sono quelli del lago sono venuti su e quindi ci siamo riuniti e noi abbiamo detto perché non facciamo qualcosa in questo campo appunto nasce anche le guardie ittiche che sono un ente vero e proprio di polizia amministrativa sono riconosciute dalla polizia provinciale con il quale abbiamo un coordinamento diretto e infatti durante alcune opere come quelle che sono state appunto addirittura del 31 di gennaio con le quali abbiamo fatto una ronda in notturna aspettando appunto Bracconieri collaboriamo anche direttamente proprio con la polizia provinciale da cui siamo coordinati insomma quindi un bel lavoro di rete e collegamenti tutti al servizio comunque dell'ambiente siamo distribuiti in tutta la zona tra virgolette anche se non ci vedono vediamo insomma situazione del lago che comunque con questa siccità non è semplice anche il lago di Montepulciano un po' soffre giusto? Sì come anticipato già detto prima sì c'è questa sofferenza anche per esempio le uscite con il battello sono ridotte non possiamo viaggiare a pieno carico però al momento diciamo che a noi come per le nostre attività non è che ci crea grandissimo disagio riusciamo poi alla fine a fare comunque i nostri percorsi guidati a fare le visite e quello che diciamo abbiamo sempre in calendario bene un calendario che come abbiamo capito è ricchissimo noi ce la mettiamo tutta perché diciamo anche la nostra associazione gli amici del lago che è una sezione dell'associazione Treberte è un'associazione di volontariato di conseguenza anche noi cerchiamo di mantenere vivo questo angolo poi alla fine di mondo proprio per preservarlo per chi diciamo non solo per noi ma anche per chi può goderne di turisti e tutte le persone anche perché è un punto comunque strategico essendo lungo il sentiero della Bonifica c'è un grande passaggio soprattutto a livello di pellegrini di persone di turisti in bicicletta il turismo lento che si sta riscoprendo e voi siete uno dei protagonisti principali esattamente allora ringraziamo gli amici del lago di Montepulciano Enzo e Monica con questo calendario ricchissimo che sicuramente noi della Valdichiana vi faremo visita quando siamo in un momento in un periodo di calma ringrazio Flavio mi raccomando io e te teniamoci in contatto perché sai che quando c'è qualche notizia il punto di riferimento è la Valdichiana ti ringraziamo anche perché ti abbiamo fatto correre per essere qua questa sera e voi non andate via perché c'è il blocco sorpresa a tra poco se chiudo gli occhi tocco la luna pare che mi nasconda la mia fortuna io vago sui tetti come mi viene delle mie sole mani le tasche piene scusi lei saprebbe dirmi dove va questa strada che sfugge nella nebbia porta a casa nei pressi dire Bibbia scusi lei saprebbe dirmi dove va questa strada che sfugge nella nebbia fatti fatti tuoi hai mai capito ciò che vuoi è come un treno che fischia nella testa questa pioggia d'inverno che dice basta hai mai capito ciò che vuoi è come un treno che fischia nella testa questa pioggia d'inverno che dice basta come un treno che fischia nella testa fate fate tuoi fate hey Scusi, lei saprebbe dirmi Dove va, questa strada che sfugge nella nebbia Fatti fatti tuoi, hai mai capito ciò che vuoi Come un treno che fischia nella testa Questa pioggia d'inverno che dice basta Come un treno che fischia nella testa Fatti fatti tuoi Eccoli qua! Ringraziamo la nostra Alessia che ci ha aiutato in questa parte logistica E diamo il benvenuto ai Belinda Eccolo qua Andrea e Simone Andrea l'abbiamo già conosciuto l'anno scorso in un altro contesto E ci aveva già un po' parlato dei Belinda Noi li abbiamo monitorati tutto quest'inverno Vi abbiamo seguito anche se non fisicamente Ma vi abbiamo seguito e ve li abbiamo portati Il gruppo del momento Possiamo dire così Perché siete in giro con dei live vostri personali Ma siete anche in giro Aprite anche dei concerti di altri artisti Allora loro sono un gruppo di ragazzi Di Farnitella Che questo inverno hanno vinto le selezioni di Sanremo Rock Ma prima di parlare della loro esperienza Conosciamoli un po' meglio Andrea, chi siete? Da dove venite? E cosa fate? Fiorino Come diceva Il bomber Noi siamo di Farnitella Come hai detto te E anche un paesino Per chi non lo sapesse Noi ci teniamo tantissimo Sono tipo tante persone vive E censite In realtà poi non lo so Quanto saranno vive Almeno 65 Ancora in auge Qui ritorno al tema dei piccoli borghi Ma sì Sono tre borghi E una strada in realtà Quindi niente Io, Simo e Jackie Che è il batterista Giacomo Siamo nati Cioè praticamente io e i nonni di lì Simo è di lì Giacomo è di lì Tutti hanno un genitore almeno esterno Tipo importato da qualche altro Però siamo cresciti insieme Nel più o nemmeno E invece poi si è trovato Riccardo Che è il bassista Mio ex chitarrista di un gruppo precedente E ha deciso di venire con questa banda di raccattati A fare A suonare Quest'estate E comunque veramente è stata una tragedia nel senso buono Tragedia nel senso buono È stato bello ma Cioè Tanti dati abbiamo fatto Quanti anni sono che siete Che è nato il progetto Belinda? Quanto anno è? Perché in realtà È un anno Che è nato il progetto Belinda Simo Un anno e mezzo? Sì Un anno e mezzo Diciamo Ci conosciamo comunque da sempre Quindi abbiamo suonato in varie occasioni Tipo il super ferragosto farnetellese Che invitiamo tutti i gentili telespettatori A partecipare Perché succedono cose molto strane E niente Diciamo Queste esperienze ci hanno condizionato E un anno e mezzo fa Abbiamo deciso di mettere in piedi questa baracca E da una baracca molto bella E diciamo Abbiamo accettato comunque Riccardo nel gruppo Che salutiamo Perché comunque lui viene da No perché lui viene da montanare Quindi essendo una situazione molto piccola Come farne tela E allora sì Diciamo Ha avuto i requisiti giusti Allora Una realtà giovane Ma che comunque Ha già fatto un successo Un grande successo Quello di Accedere alle selezioni di Sanremo Rock Come siete arrivati a questo Possiamo dire punto di partenza Non traguardo Ma punto di partenza L'esperienza di Sanremo Rock È stata bella Abbiamo fatto Che si è fatto? Siamo in contest online Poi alla fine No? Era in contest online Abbiamo mandato le nostre tracce Su un format online E siamo stati contattati Dall'organizzatore E ci ha dato la buona notizia È stata un'idea di Jackie questa Eravamo lì una sera Vicino al focolare E lui si toccava il naso Perché lui si tocca sempre il naso E ha detto Però per me Si potrebbe anche provare Con Sanremo Rock E allora abbiamo provato E alla fine è andata Quasi bene Perché diciamo Siamo arrivati in finale Tra i 15 finalisti E diciamo Nero nazionale Sì però Quando uno è lì Alla fine Entra quel Quel giochino Che uno dice Dai stringiamo i denti Perché Sì eri lì Voi eri lì Perché loro mi hanno lasciato in camera Tutta la settimana Siamo stati lì una settimana E mi hanno lasciato in camera Da solo Quando siamo passati Alla prima selezione Io ero in camera E loro non mi avevano chiamato Quando la seconda No la seconda c'ero Perché si è preso tipo Una super febbrata Siamo stati in Sutri Cioè si è preso due multe La febbre Una tragedia C'era tipo il chitarrista Di Elio Che Chiara che prendeva in giro Delle citte Che intervistavano Che tra l'altro Lei è fortissima Tra l'altro E simpacissima Oltre che Salutiamo Elena Maieli Che comunque Ha avuto la Diciamo La grande Come si dice Insomma Ci ha supportato E sì Non ci ha neanche Trattato male Perché siamo stati Un po' molesti Qual è stata La vostra Come è stata Questa esperienza Voi avete girato Un po' tutta l'Italia Avete aperto Dei live Importanti Diciamo Sì Delle situazioni Molto interessanti Un live Comunque molto interessante Che abbiamo fatto È stato Proprio di recente L'apertura alla rua Che diciamo Tra l'altro è stata una sorpresa Perché dovevamo andare Con la formazione al completo Alla fine ci siamo smezzati Eravamo qui presenti Andrea Guazzini E Simone Rocchi A suonare Ma è stato molto bello Perché hanno del personale Veramente Dei tecnici super preparati Tipo Una cura dell'audio Così Bella Non l'avevo mai vissuta Quindi un'esperienza Per voi che Cresce Man mano che Comunque arrivano Queste occasioni Come vi siete Voi personalmente Andiamo più sul personale Come vi siete Avvicinati Al mondo della musica Avvicinati al mondo Della musica Con gli SDC Sicuramente Quindi A livello Diciamo Di cognizione Ovvero Quando ho realizzato Che mi piaceva la musica Veramente Tre anni fa Penso Veramente Quando Tre quattro anni fa Che ho detto No Forse Che mi sono rotto la schiena Tipo no E quindi sono stato Sei mesi A guardare il soffitto E quello è stato Un periodo Nel 2013 Fine 2013 Dove ho detto No Forse Fa quello che ho fatto Fino adesso Non mi piace E voglio fare E hai iniziato subito Con la chitarra Sì sì No la chitarra Non la suonavo Da quando avevo 17 anni Ma fra lavoro Città E insomma Eccetera Suonavo un oraggio Alla settimana Due Cioè pochissimo Quindi è un amore Che hai riscoperto Adesso Recentemente Diciamo insomma Però con grande convinzione Sicuramente anche perché L'età è più avanzata Quindi devi un po' Cercare di bruciare le tappe Non puoi stare Come quando avevi 15 anni Sì che fai nella vita Ma non lo so Ora vedo Decido Intanto vai a fare Idee chiare quindi Idee chiare Ce le hai tu Simone Assolutamente no Idee chiare Diciamo È una bella domanda Ve lo stavo parlando Prima con Andre Diciamo Sono un fan Delle cose a caso Infatti L'organizzazione Degli ultimi eventi È stata veramente impegnativa Perché ci siamo trovati Diciamo A avere un calendario Fortunatamente pieno E L'organizzazione È una cosa Che mi distrugge la vita Però sono contento Di aver provato Questa esperienza Adesso ho bisogno Di una settimana Totalmente a caso E quindi probabilmente Andrò Senza programmi Assolutamente Senza programmi Però le idee chiare Diciamo Non ci sono Ma abbiamo degli obiettivi Comunque Quello di comunque Continuare a fare Di questa cosa Qualcosa di molto bello Di registrare il nostro album Il prossimo anno Speriamo E comunque Chi lo sa Quello che deve venire Noi lo prenderemo Faremo in modo Di essere Diciamo Pronti A eventuali Quanti anni sono Che suoni La chitarra O se suonavi Prima magari Qualche altro strumento Perché di solito Gli artisti Che abbiamo avuto Fino adesso Hanno iniziato Con uno strumento E sono andati a finire In tutt'altra parte Da piccoli In realtà Le obbligavano A studiare il pianoforte Però il pianoforte Non piace a nessuno E cambiano Anche se i pianisti Sono i migliori musicisti Che esistono al mondo E poi deviano Verso la chitarra Perché Meno male Quattro accordi Le mettono Le fanno Insomma E da soddisfatto Le fanno la batteria Perdono le note Non gliele frega niente Dice basta Non mi voglio Complicare un degrato Se ci pensi Allora Il nostro regista È anche musicista Quindi magari dopo In separata sede Discutiamo di questa cosa Lui infatti Fa parte di un vero gruppo È un vero gruppo Che non come il nostro Però Mi fanno segna di stitare Però Però loro Non sono andati a starremo rock Mi piacciono di più De Belinda E Io li rispetto tantissimo No no Dicevo anche a me Senti Allora Come hai iniziato A suonare la chitarra E Ti faccio due domande In uno Così Non mi svincolate più Come nascono le vostre canzoni I vostri brani Che sono qua Nel vostro primo disco Giusto Scusami Ti ho fatto cadere Il petto Allora La prima è facile Perché dei quattro accordi Di cui Andrea parlava Io ne conosco tre E Infatti la chitarra Diciamo La suono da poco E Oddio Forse è passato un po' di tempo E Praticamente Ho comprato la prima chitarra Quando mi sono trasferito a Milano Per studiare E Diciamo Mi sono sentito un po' perso Perché da fare in Italia a Milano Il passo è un po' grande No Però è stato bello Perché diciamo Comunque ecco Io ho conosciuto la musica In questo modo qua Prima non Assolutamente non avevo Delle idee musicali E Questa cosa mi è servita tanto E Poi niente Le canzoni come nascono È una domanda difficilissima Questa invece Passiamo la parola a lui Il fuori assunto supersonico No Per bene Perché Allora Hai mai È un La scritta Simo E Quindi Hai mai la scritta Simo Cos'è che non va All'orologio La scritta Simo E noi L'abbiamo arrangiata Hai mai L'ha scritto il testo E noi abbiamo fatto Insieme Cioè c'era un'idea di musica iniziale E poi abbiamo fatto C'è sto riff del cavo Che pro è il guns Cos'è che non va Abbiamo fatto tipo L'ha scritta Simo totalmente Chitarra acustica E E voce E quindi E testo E poi Sì 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 Poche cose Gioia l'ho scritta io E' una serata perché E' felice Eh Ero contento E Nightrunner Simo Questa la devi raccontare Nightrunner è una canzone Che non c'entra niente Perché La prima canzone in inglese È l'unica che abbiamo E niente Spero che la grammatica sia corretta E Abbiamo avuto anche questo problema Con Sanremo Rock E infatti abbiamo chiesto l'aiuto A un'amica di Andrea Che è stata una professoressa Gentilissima E niente Diciamo Devo raccontare il significato? È brutto raccontare il significato Ma Giusto due parole L'idea L'idea Praticamente è che Una notte Sono uscito di casa Vestito da Corsa Perché una volta correvo E mi sono messo a correre Per le strade Mi sono immaginato Negli occhi di una persona Che poteva osservare questa cosa Perché la notte è molto avanzata Sono state le 3 O le 4 E cosa avrebbe potuto pensare? E allora è venuto fuori Tipo un flusso di coscienza E è nata Nightrunner Con l'ortografia Spero corretta Penso di sì Penso di sì Allora ragazzi Come vedete il modo di fare musica A livello non solo locale Ma anche nazionale E se nel vostro futuro La musica è il vostro La vedete come vostra professione O come un passatempo Un hobby La musica non può essere un passatempo Nel senso che se uno sente la musica dentro È una cosa che viene dall'interno Secondo me Io non la potrei mai vivere come un passatempo Quindi se faccio una cosa Ci dedico al 100% No Io sicuramente voglio fare musicista da grande Se non lo può Da grande Ormai Come se avessi 10 anni Però sicuramente Fino a che non riuscirò a fare questa cosa O avrò il sentore di essere Quasi arrivato a fare questo mestiere Non mi darò per vinto sicuramente Questa è l'unica certezza Che al momento Nella vita in generale Crederci sempre Renderti mai Sì sì ma Bisogna essere testoni Nella musica I qui presenti Mi insegnano sicuramente Insegnano a tutti noi Quindi insomma Comunque tanta convinzione Sicuramente Nella vita Sicuro C'è il costo Di qualsiasi cosa Io condivido in piano Quello che ha detto Andre Perché alla fine Diciamo anch'io Avverto le stesse sensazioni Non sto studiando Non sono diciamo Un ingegnere della musica Un conoscitore musicista E credo Che non mi spaccerò mai Per esso Perché non ne ho L'ambizione Però sicuramente Mi piace suonare E scrivere delle parole Spero che queste parole Poi dopo piacciono alle persone Comunque La prima Il primo scalino È che piacciono a noi E che comunque ci rappresentino Il piacere è una cosa molto relativa A dire la verità Esatto Esatto No diciamo Alla fine Io la musica la vivo Come autenticità Verità è una parola grossa Autenticità sicuramente E ci sto investendo Tutto il mio tempo Come Andre E come anche Gli altri ragazzi del gruppo Comunque Niente Diciamo Abbiamo messo in piedi Un bel progetto E sono super felice Di farne parte Un progetto Che sta crescendo Che nonostante Sia poco tempo Che esiste Il progetto Belinda Sta già ricevendo I suoi frutti Come appunto Sanremo Rock Allora Io ringrazio Andrea e Simone Per esserci venuti qua A trovare Vi ho fatto corrono un po' Ma fa parte del gioco Fa parte della puntata Di Giardino Valdichiana Vi lascio in musica Vi ricordo solo Che venerdì prossimo Siamo ancora qua Dall'Enoliteca Del Consorzio del Vino Nobile Ringrazio i fantastici ragazzi Della Lightning Che oggi ci hanno fornito Una regia stupenda E ciao a tutti Rimanete connessi Con la Valdichiana E i Belinda Ciao Grazie a tutti